Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del vostro Sparkzone Oggi ho un annuncio veramente speciale per tutti voi e per tutti quelli che mi seguono, per quelli che mi seguivano e per quelli che mi seguiranno Dopo aver fatto il salto di qualità su Twitch, introducendo tantissimi giochi e ci stiamo divertendo veramente tantissimo Ci sono 300.000 clip in più che state facendo e pubblicando con tutti i momenti più belli delle live Stiamo facendo simulatori strani, giochi horror, di tutto, anche ovviamente Brawl Stars, StumbleGuys Ho deciso raga di fare un cambiamento anche qui sul primo canale Ma non spaventatevi, non sarà qualcosa in cui vi toglierò, ma sarà qualcosa in cui io vi aggiungerò E sono talmente così in hype che non vedo l'ora di raccontarvi proprio tutto quello che voglio fare in questo canale Ma prima di iniziare voglio che fate due semplicissime cose La prima è quella di commentare sotto questo video, a fine video, dovete dirmi la vostra idea Deve essere un feedback costruttivo, non deve essere un wow o un sì o un no, non mi piace Un feedback costruttivo, cioè dite cosa ne pensate di questo cambiamento e se secondo voi potrebbe interessarvi o no Io spero di sì La seconda cosa è quella di andarvi a iscrivere anche al mio secondo canale Il modo da supportarmi nella crescita del secondo canale Anche perché se mi supportate sul primo non vedo perché non supportarmi sul secondo Anche perché sono entrambi i canali miei, cioè non è che sono due canali diversi Adesso possiamo parlare un po' di queste grandi novità Innanzitutto volevo prima ringraziare tutti voi perché grazie a voi che oggi sono arrivato qui Ho raggiunto traguardi estremi come i 100.000 iscritti, il mio primo button di YouTube Abbiamo raggiunto migliaia di record su YouTube con le live, anche su Twitch Abbiamo fatto i più bei tornei di StumbleGuys, abbiamo organizzato tantissimi giveaway e tornei su Bluestars Abbiamo raggiunto i 200.000, i 300.000 iscritti Quindi grazie a tutti voi sono riuscito a raggiungere tutti questi traguardi Anche a entrare nei replay totem, a far parte dei creator del Parma eSports E dopo tutti questi anni questo canale è diventato ormai un punto di riferimento per tutti quelli che amano Bluestars EstumbleGuys e anche qualche altro giochino Ma sapete cosa? Ho deciso di fare un cambio Ma non è un cambio, cioè un'aggiunta Anche perché come voi ben sapete attualmente io sto pubblicando un video sì E un video al giorno sì e l'altro no Quindi in pratica faccio 4 video a settimana, ok? E quindi rimangono quei 3 giorni bughi Cosa ho deciso? Dato che comunque io su Twitch mi stiamo divertendo tantissimo a fare anche tantissimi giochi E soprattutto io amo provare nuovi giochi, esplorare nuovi mondi Avventurarmi, fare nuove sfide, challenge E ho capito in pratica che questo canale aveva bisogno di un piccolo restyle Quindi da oggi vi presento il nuovo stile del canale Questo è il calendario che ho pensato di fare Infatti come potete ben vedere Il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato Non mancheranno mai i contenuti normali che porterò sempre Che sono quelli su Bluestars e su StumbleGuys O comunque quei giochi che porto sempre anche del mondo Supercell Ad esempio se c'è un aggiornamento di Squadbusters Lo porterò ugualmente, è normale Ho deciso di introdurre dei format nuovi Ecco come funzionare il calendario Ogni giorno della settimana avremo dei temi diversi Il lunedì vorrei iniziare alla grande con il Bluestars Day Quindi ogni lunedì voglio pubblicare qualcosa su Bluestars Che siano delle sfide, delle challenge, delle guide, delle novità, degli annunci Tutto quello che di solito porto su Bluestars Lo voglio continuare a portare sul mio canale Quindi il lunedì ci sarà il Bluestars Day Quindi comunque porteremo Bluestars Il martedì ho voluto introdurre una cosa nuova Perché il martedì, essendo che io faccio un giorno sì e un giorno no, era vuoto E quindi cosa ho deciso di fare? Ho deciso di creare un nuovo format che si chiama Provo un nuovo gioco Infatti il martedì sarà il giorno dei giochi novità Dove ci metteremo alla prova sui nuovi titoli che ho scoperto E vedremo insieme se ne valgono la pena o no Quindi in pratica esce un nuovo gioco O stanno sviluppando qualcosa di nuovo Non lo prendiamo e ci giochiamo Lo proviamo, ci giochiamo E poi magari tramite i like e i commenti Mi fate capire se il gioco piace In questo modo possiamo dare anche una recensione positiva Alle case gaming che vogliono sapere anche se il gioco possa piacere o no Il mercoledì sarà invece non il Bluestars Day Ma lo Stumbleguys Day I classici video con delle challenge Proveremo a fare i nostri record Faremo qualche torneo Insomma tutte queste robe qua E vi ricordo questo qua ragazzi Non per confondervi Ma è il calendario dei video Perché su Twitch ormai facciamo di tutto e ci divertiamo Ma ricordatevi che questo qua è il calendario YouTube Quindi i video come usciranno ogni settimana Stampate questo calendario così ogni volta che voi sapete Oggi c'è Stumbleguys sul canale di Brawl Stars Andiamo a vedere Oppure se siete dei very fan Sapete che tutti i video comunque di Sparks sono fighi E fanno divertire E li guardate tutti Giovedì ho deciso di fare un mix Quindi fare o Brawl Stars o Stumbleguys In modo di mantenere comunque sempre il tema principale del canale Perché non voglio togliervi niente Voglio solamente aggiungervi So quanto a voi piacciono i miei contenuti di Brawl Stars o di Stumbleguys Il venerdì invece volevo provare una nuova chicca Cioè l'horror day Non voglio fare dei giochi super horror Più che altro sono dei giochini horror Tipo quei giochi indie che fanno degli jumpscare Come ad esempio i giochi horror di Roblox per esempio Che non sono molto cruenti Quel tipo di giochi là in pratica vorrei portare E introdurli nel canale Per divertirci un po' Perché sono sicuro che ci sarà prima o poi il gioco Che mi farà fare il jumpscare più grosso della mia vita Ne ho fatti tanti Ma ancora quello più grosso secondo me deve arrivare E qua voglio sapere soprattutto il vostro feedback Perché voglio sapere se vi potrebbe interessare Vedere nel canale ogni venerdì Un mini giochino horror Dove noi andiamo a fare il giochino horror O no Ok secondo me potrebbe essere interessante Anche perché potremmo pubblicare anche delle serie Tipo ogni venerdì esce prima tutto il gioco Fin quando non lo completiamo E poi cambiamo gioco Potrebbe essere interessante Perché in questo modo Sapete che il venerdì c'è il gioco horror di Sparks Dovete subito prepararvi i pannolini Perché non sa mai La paura è troppa Il sabato ho scelto di nuovo Brawl Stars o StumbleGuys Ancora una volta ho deciso di portare il solito tema Anche perché di sabato di solito ci sono sempre i BroDalk Quindi non posso non mettere Brawl Stars E se non ho niente da fare su Brawl Stars Pubblicheremo qualcosa su StumbleGuys E infine la domenica Che credo sia il giorno più bello di tutti per me Perché come voi sapete sono un super fan dei giochi simulator Anche perché i giochi simulator sono veramente fatti Bene e male Perché bene e male? Bene perché sono tutti perfetti Ogni cosa sembra essere perfetta nel suo genere Ad esempio se io devo cambiare una ruota Ci stanno i bulloni da svitare C'è la ruota da svitare E poi da rimettere Insomma è tutto fatto come se fosse un vero simulatore Mentre la parte brutta Che poi non è brutta Ma sarebbe la parte divertente E che alcune cose sono veramente bizzarre E quindi fanno veramente ridere Come ad esempio su Gas Station Simulator Che appare un autobus pieno di alieni che danzano Oppure quelli che mi mandano a quel paese Su altri giochi di simulator Sarà una domenica divertente Diversa dal solito dove noi andiamo a provare i nuovi simulator Se piacciono ovviamente Vedo che ci sono tantissimi like Tantissimi commenti del tipo Rivoiamo un altro episodio Io vi riporterò la domenica prossima un altro episodio Dello stesso simulator Se vedo che invece non piace Che non vedo tanti like Che non vedo tantissimi commenti Che fanno capire che il gioco piace Allora io vi porterò un altro Per vedere se vi piace quell'altro Insomma ragazzi Voglio solo farvi capire Che con questo nuovo stile del canale Non voglio abbandonare i vecchi contenuti Ma piuttosto aggiungere più varietà Come ho fatto anche su Twitch E soprattutto migliorare la vostra esperienza Sul mio canale Su YouTube Italia E voglio farvi divertire E voglio farvi anche conoscere Nuove avventure E nuovi giochi Perché comunque limitarsi solamente a un gioco È veramente brutto Quindi continueremo a divertirci Sui nostri giochi preferiti Ci avventureremo insieme In delle cose assurde E quello che mi chiedo io allora è Siete pronti ragazzi Ad avventurarvi in nuovi giochi insieme a me A vivere momenti epici O a spaventarvi insieme a me Il venerdì con i giochi horror E questo ragazzi Sarà solo l'inizio Perché il canale si evolverà E soprattutto sul secondo canale Una volta che portiamo questi giochi sul primo Vorrei fare solamente FC25 E magari chiameremo quel canale Stavolta Sparks Calcio Perché parleremo solo Di FC Mi raccomando Guardate ancora una volta il calendario E vi invito ancora una volta A commentare Voglio sapere cosa ne pensate Di questo calendario Il mio sogno è vedere Tantissimi commenti positivi Anche perché raga Il canale Ha bisogno di un nuovo restario E che non possiamo rimanere fermi Su StumbleGuys O comunque Brostars Anche perché Può essere che StumbleGuys Potrà avere un altro periodo bomba Ma Brostars l'ha già avuto E potrebbe andare a calare Quindi non possiamo rimanere Nella speranza di qualcosa Quindi dobbiamo fare Nello stesso modo che abbiamo fatto Con StumbleGuys agli inizi Perché StumbleGuys L'ho conosciuto io Grazie al fatto di provare Tantissimi giochi nuovi Una volta che ho provato StumbleGuys Mi sono innamorato E da lì poi c'è stato il boom Ovviamente il più forte d'Italia Su StumbleGuys Era lo Sparksone Perché già era anche Content Creator L'ho già avanzatissimo Secondo me fare questo stile Di roba nel canale Porterà frutti Ma ovviamente prima voglio vedere Cosa ne pensate voi Nei commenti qui sotto E soprattutto Dito da tutti i vostri amici Che magari mi seguivano E adesso non mi seguono più Perché voglio sapere anche Il loro feedback Perché quelli che adesso Non ci sono più E magari guardano altri Sono molto importanti Nel canale Quindi commentate E fatemi sapere veramente Cosa ne pensate Di questo nuovo calendario Se aggiungereste qualcos'altro O se cambiereste qualcosa Oppure se per voi è perfetto Come sempre Non dimenticate di attivare La campanellina su tutte Iscrizione al canale Per supportarmi Anche al secondo canale Il mi piace Mettete Ragazzi io vi ricordo Per voi è gratis Ma per me mi fate Un grandissimo regalo Perché più mi piace ci sono E più il mio canale va bene Quindi se volete Veramente supportarmi E darmi una mano Su youtube Il mi piace E un commentino Non fanno male Sono gratis E veramente Aiutate il canale Ad andare in alto Che dire ragazzi Ci vediamo nel prossimo video E spero di essere stato Abbastanza chiaro E un'ultima cosa Ho attivato di nuovo Gli abbonamenti da 99 centesimi Ci stanno tutti i vantaggi Che potete ottenere Da un abbonamento Nella descrizione qui sotto Troverete il link Per abbonarvi E vi spiegherà Anche tutti i vantaggi Che avrete Dal vostro spazio è tutto Ci vediamo Nel prossimo video Bella